Un'ultima cosa, se fosse possibile restituire questa fredda da... Posso, signore? Ma certo, prego. Deve essere difficile lasciare andare qualcosa di così bello. Sa, Daryl ha accompagnato in auto Miss Vivian fino a casa ieri. Lo restituirò. Grazie, signor Thompson. Sta spiovendo, signor Lewis. L'aereo parte in orario. Sarà a New York per tempo. Sarà pagare da...